Sento sparare, rapporto! L'area di carico vicino a Broad Street è sotto attacco. È la divisione! Barricate l'ingresso. Usate il corazzato. Difendete le scorte a ogni costo. Stai arrivando... L'obiettivo è lui, ma se scopri dove nasconde le sue scorte, prendi tutto ciò che puoi. Tagliargli i viveri significa togliere un supporto cruciale a Kiner. Fa' attenzione. Vogliamo Drago per il suo ruolo nell'attacco al municipio, ma l'idea di spedirti dritto in butta ai lupi non mi piace così. protective con ganglia sicuro, ma per l'imm sẽ gắng di lalari. A presto per l'ai faona! Ng parlarонne è proprio lelaria! Kiassa! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buchessa, occupatene personalmente. Ricevuto. Ruba quelle scorte, agente. Tutto quello che gli togli, lo togli anche a Kinner. I bastardi sono nel deposito di Kinner. Fateli fuori. Costi quel che costi. Stanno entrando ora nel deposito. Chiesta assistenza medica interiata. Posti in avvicinamento. Posti in arrivo. A un agente serve aiuto. Presto! Posti in arrivo. Grave trauma rilevato. Agente a terra. Un agente ha lasciato il punto. Chiesta assistenza medica interiata. Agente deceduto. Nuovo agente nel tuo gruppo. Agente a terra. Agente diventeri. smettetela di perdere tempo attaccato attaccato le scorte sono andate nessuna risposta da duchessa cazzo 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 hanno ucciso duchessa li voglio morti fateli soffrire quei bastardi forze stili in arrivo non si non da mai pericolo se non 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 posti vicini la . 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 Radunatevi al corazzato e caricatelo È ora di riprendere il controllo Occhio agente Prendi tempo Meglio non fare scelte avventate Beh, per fortuna il corazzato è davvero brutto 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 agente dragoff si è barricato nell'edificio della borsa non si può entrare ma forse puoi trovare un passaggio dal ponteggio al di là della strada alveare restauratore traditori rilevato drone difensore traditori rilevato drone difensore nemico rilevato torretta artiglieria traditori rilevato torretta artiglieria rica rilevata luciola accecante traditori rilevata torretta artiglieria rilevata luciola accecante nemica rilevata liveare restauratore nemico rilevato torretta artiglieria traditori rilevato drone bomba diare nemico rilevato grave trauma rilevato richiesta assistenza medica interiata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti torretta artiglieria traditori rilevata torretta artiglieria traditori rilevata torretta artiglieria traditori rilevata palpita Grave trauma rilevato. Richiesta assistenza medica immediata. Agente fuori combattimento. Drone difensore traditori rilevato. Drone difensore nemico rilevato. Agente a terra. Tempo scaduto! Merda! Sono cinza andato! Eliminateli! Segnati dalle critici. Agente neutralizzato. L'esplante. 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 Sì, 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 sì. Oh, oh, oh. Agente traditore, eliminato. Non è possibile, non è possibile, non è possibile, non è possibile. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.